Ciao a tutti da Cristian Tigenza, collaboratore del blog, eccomi con un grande artista, Michele Spanò. Eccoci qua al Mondo Fitness, siamo qui con un angolo riservato alla moda, ai capelli, alla bellezza, quest'anno si rinnova a Mondo Fitness con il gruppo Spanò che si dedica alla bellezza. Quindi ringraziamo di questo, salutiamo tutti gli utenti su YouTube, MySpace, Facebook e Twitter e li invitiamo qui a Mondo Fitness. Di partecipare chiaramente al Mondo Fitness, è aperto da oggi, l'inaugurazione fino a settembre e ci saranno tantissimi eventi con noi presenti, tante sfilate di moda. Perfetto, perciò non mancate, ricordiamo anche il tuo sito. Sì, www.spanò.it, michelespanò.it e chiaramente mi potete contattare e vedere anche altri miei lavori qui al Mondo Fitness. Perfetto, e come si chiamano loro? Mi chiamo Carmen. Ilaria, Mariana, Mariana. Perfetto, da Mondo Fitness per il momento è tutto. Ciao! Ciao, a presto!